A volte ritornano un vecchio refrain di solito proposto per i volti noti in vari campi tra cui quello politico ma che in un'Italia lenta e burocratizzata vale anche per le idee. E' tornata alla ribalta in questi giorni la proposta di legge del 1999 supportata da più di 5.000 firme per la Costituzione di un'unica grande città, Vallo di Diano. Se ne è discusso nei giorni scorsi rimettendo sul tavolo gli ipotetici effetti positivi che ogni unione di 19 comune di oltre 60.000 cittadini potrebbe avere sia in termini di riduzione delle spese per i servizi essenziali sia in termini politico economici. Ancora bruciano le bocciature dei politici del territorio che hanno goduto di scarsa considerazione nella formazione delle liste per le prossime elezioni. Una presa di coscienza che quindi va oltre le opportunità pratiche gestionali comunque sotto la lente di ingrandimento delle politiche di governo nazionale mirate a razionalizzare la spesa pubblica. Un ritorno al passato l'idea è stata avanzata circa 30 anni fa che oggi risulta più che mai a passo con i tempi. L'unione sarebbe inoltre giustificata da un'omogeneità culturale seppure in passato si è parato di un progetto fantascientifico c'è chi lo vede invece come lo strumento per staccarsi dalla burocratica sudditanza della provincia di Salerno. Prima di essere un progetto urbanistico si tratta di un progetto percettivo scrivevano gli ideatori nel lontano 1976. Altri tempi potrebbe dire qualcuno allontanando quel sentore tardo romantico che oggi però ritorna di attualità con una connotazione molto più concreta.